Occhio ai giornali di martedì 22 giugno 2021 ben ritrovati buongiorno a tutti cari telespettatori di Fano TV, sintonizzati come sempre sul canale 17 del Digitale Terrestre, visibile in tutta la regione Marche e visibile anche sui nostri social, dalla pagina Facebook dove siamo in diretta, al nostro sito occhianotizia.it dove invece potrete rivedere questa e anche altri programmi di Fano TV on demand come si dice, cioè in ogni momento della giornata. Allora come sempre cominciamo dal salto, oggi è San Paolino andiamo a Nola dove Paolino era insomma un uomo ricco, molto ricco, console, insomma fece un po' come San Francesco diventò povero, detto tutto ai poveri, si fece povero per aiutare i poveri. 5.27 l'alba, 20.59 il tramonto. Per chi sperava in una giornata un po' meno calda, beh diciamo che rimarrà deluso perché oggi sarà più caldo di ieri caldo intenso, 38-40 gradi, addirittura questa è la copertina di trebimeteo.com, sotto la canicola africana per giorni caldo molto intenso al sud e con 40 gradi centigradi, una settimana davvero estrema e pensare che siamo ancora a giugno non solo caldo intenso ma anche rischio di improvvisi nubi fragili su parte del nord ma a noi interessa la nostra regione la regione Marche in questo caso, vedete ecco c'è questo sole che però soprattutto nella Pesarese, sulla costa Pesarese questo sole che non è limpido, vedete c'è questa velatura, questa foschia che è dovuta come si diceva appunto all'afa, al caldo intenso e quindi sembra quasi che ci siano delle nuvole, in realtà è tutta foschia allora adesso andiamo a vedere però, visto che è caldo, già fa caldo anche dentro casa, finestre tutte spalancate per sperare in qualche corrente che dia un po' di sollievo noi idealmente andiamo tutti insieme a Nicolò e il bagnino di turno di questa settimana qui a Occhio ai Giornali siamo a Fano nella spiaggia di Sassonia e Nicolò è certamente più fortunato di noi perché è praticamente a due metri dall'acqua a due metri dal mare, buongiorno buongiorno a tutti allora, dicevamo ieri molto caldo, oggi lo sarà altrettanto, che si dice giù? C'è gente immagino al mare? ancora no perché comunque tutti dormono però dopo arriveranno le persone, arrivano comunque nonostante il caldo eccezionale siamo sempre a giugno e purtroppo le persone ancora molte non hanno le ferie ci sono solamente gli anziani che vengono tutte le mattine perché loro possono e giustamente fanno bene perché comunque si sta bene solo in acqua con questa umidità certo, allora io ne approfitto, vado subito sulla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico perché si parla di spiagge e si parla di coprifuoco negli stabilimenti accesso vietato da luna di notte, chiusi fino all'alba con l'ordinanza di divieto sarà anticipato a mezzanotte il sindaco dice sono preoccupato, il sindaco di Senigallia dice sabato il barista di un hotel è stato aggredito da un branco di ubriachi proprio sul lungomare Alighieri due volte in una settimana i vandali hanno colpito il club Agni Marta 55 nel cuore della Movida domenica mattina il bagnino nella ripresa di un video di fronte ai lettini sfondati aveva detto di voler far causa al comune insomma a Senigallia pare che la situazione dei vandali e quant'altro negli ultimi giorni sia un po' all'ordine del giorno in questo caso la cronaca da noi è abbastanza tranquilla negli stabilimenti per il momento non registriamo nulla di tutto questo ma l'occasione la vorrei cogliere per chiederti Nicolò dal punto di vista degli accessi in spiaggia durante la notte a parte il coprifuoco che adesso non c'è più ma proprio perché non c'è più come funziona? Allora dal nostro punto di vista non cambia niente perché comunque sia noi avevamo la possibilità di far accedere fino a mezzanotte ma era una norma dovuta al fatto che abbiamo il bar come molte altre spiagge che sono accessori allo stabilimento quindi quando chiude lo stabilimento deve chiudere anche il bar solo per quello c'era la possibilità di far accedere le persone fino alla mezzanotte Ecco senti una cosa però no io ricordo quando ero ragazzini la cosa più romante che è portare la fidanzatina in riva al mare prendere un lettino aprirlo in attesa di essere cacciati dal lomino con la pila che veniva lì ti urlava da lontano tu prendevi il freddo e fuga e andavi via ma queste sono scene del passato o esistono ancora oggi? succedono ancora oggi? Allora in questo momento per il fatto delle normative covid cerchiamo di evitarle perché comunque sia dopo bisogna risanificare nuovamente i lettini quindi il nostro guardiano notturno sta molto più attento a queste cose proprio perché adesso è una questione di igiene che è fondamentale comunque quindi niente romanticismi adesso bisogna disinfettare quindi non ci si può andare adesso alto ok ok torneremo però spero al chiaror di luna grazie rigolo grazie ci vediamo domani allora via le mascherine intanto il titolo del Corriere Adriatico edizione di Pesaro via le mascherine da lunedì questa è una buona notizia certamente addio ai dispositivi di protezione all'aperto dal 28 di giugno è arrivato il via libera del CTS Speranza il ministro conferma nel Pesarese un terzo dei comuni intanto è diventato covid free l'area vasta adesso l'ultimo sforzo poi a centropagina lo scudetto di calcio a 5 tal service campione d'Italia un'altra bella conquista alta velocità sulla linea adriatica la Bella Nova chiede a Rete Ferrovie Italiane la fattibilità poi le notizie in breve Aspes il budget è inattivo retto all'onda d'urto il poliziotto morto i colleghi lanciano una raccolta di fondi e poi il pusher che andava in taxi a consegnare la droga ai clienti qua sotto invece Mariotti è direttore a Roma un onore dopo Mutti e Gatti Michele Mariotti nominato direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma l'incarico avrà inizio dal novembre 2022 il direttore pesarese ha parlato di grande onore dal momento che succede appunto a due altri grandi maestri Mutti e Gatti e di voler fare una riflessione musicale contro la violenza sui più deboli poi Sharon Stone, Passaggi Festival, conquista Fano, Italia vicina dopo Lictus la prima pagina del resto del cardino la fotonotizia è per la conquista dell'Ital Service dello Scudetto il secondo Scudetto è ancora più bello batte Catania 3 a 2 ed è campione d'Italia poi Scavolini, 60 anni di successi nel 1962 Walter fondò la storica azienda con il fratello Il Vino il bilancio e le gioie di un imprenditore vincente poi si parla di virus in ritirata contagi zero nelle marche non accadeva da dieci mesi le discoteche invece la pista piange possono attendere mentre i pesaresi ballano nella vicina San Marino allora ieri abbiamo tutti quanti quando è arrivato il report del mattino intorno alle dieci più o meno gioito sperato perché i contagi erano zero praticamente in tutte le province le marche sono in bianco ripartano da quota zero titolo del Corriere di Oggi tutti negativi 222 test molecolari e gli 87 antigenici non succedeva dal 3 agosto dell'anno scorso ma il trend rispetto ad un anno fa è 12 volte più elevato i ricoveri sono al minimo dunque Lorenzo Sconocchini questa mattina scrive l'anno scorso la curva dell'epidemia nelle marche planò a quota zero il 26 maggio iniziando la fase dello zero alternato in cui giornate covid free succedevano ad altre con meno di 5 nuovi casi che poi sarebbe durata poco più di due mesi fino al 3 di agosto prima che poi rientri dalle vacanze iniziassero a risollevare la parabola dei contagi quindi ci siamo alternati tra zero e qualche positivo fino al 3 di agosto difficile però che il nulla di fatto di ieri cioè lo zero che abbiamo registrato ieri inauguri una nuova fase del tutto piatta cioè che oggi siano di nuovo a zero perché oggi sicuramente qualche positivo lo avremo perché il ritmo dei contagi meno 125 nell'ultima settimana in media 18 al giorno è ancora molto più sostenuto rispetto ad un anno fa esatto perché nella terza settimana del giugno 2020 per dare un'idea i nuovi positivi erano stati appena una decina in tutto nella terza settimana mentre qui ancora siamo molto molto al di sopra e tutto questo sappiamo anche perché la variante Delta chiaramente ha fatto e sta facendo alle sue responsabilità intanto sul fronte dei sanitari coloro che non vogliono vaccinarsi in regione nella regione Marche sono 1181 come vedete appunto dal titolo di questo articolo di oggi ci sono 1181 sanitari che non sono ancora vaccinati e sulle varianti si accelera una circolare per indagare a fondo sulle mutazioni del coronavirus quindi praticamente parliamo del 2,58% del personale sanitario marchigiano che non si è vaccinato parliamo di medici infermieri e sanitari in generale a fronte dei 45.094 che a ieri avevano ricevuto almeno la prima dose intanto da giovedì la profilassi si potrà fare in farmacia quindi ci si potrà vaccinare anche in farmacia l'annuncio di Federpharma già abilitate 125 attività anche il carrino giro di vite sui medici non vaccinati l'ordine delibera tutti sospesi lo stop durerà fino all'assolvimento dell'obbligo o alla fine dell'anno dunque sospensione ex legge per i medici che non adempiono all'obbligo vaccinale lo comunica la Federazione degli Ordini dei Medici in una nota inviata ai Presidenti degli Ordini Provinciali in relazione all'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione della SARS-CoV-2 per tutti gli esercenti la professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario e dunque con nota di questo appunto del 17 giugno il Ministero ha chiarito la natura della sospensione dall'esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all'obbligo vaccinale la norma attribuisce all'azienda sanitaria l'accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex legge dell'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa dunque tutti sospesi o meglio tutti quelli che non sono vaccinati sanitari eccetera tutti sospesi allora addio mascherine questa è una notizia che invece ci interessa tutti quanti addio mascherine già da lunedì 28 speranza certifica per il CTS si può togliere l'obbligo delle protezioni all'aperto anche perché pensate oggi con 40 gradi e questo phon acceso che ti arriva in faccia con la mascherina è praticamente impossibile tenerla all'aperto il ministro dice ok ma rispettando le indicazioni degli esperti abbiamo sempre queste indicazioni degli esperti quali sono andiamo a vedere allora tanto per farci un'idea dove sarà comunque obbligatorio indossarla dove è obbligatorio nei luoghi aperti al pubblico nei luoghi al chiuso quando sarà non sarà possibile garantire il distanziamento quindi anche se siamo all'aperto ma siamo un po' tutti attaccati lì occorre tenere la mascherina poi ovviamente sui treni sugli aerei sulle navi sui mezzi pubblici per viaggiare per gli eventi sportivi durante gli spettacoli dove lo stabiliscono i protocolli insomma alla fine andremo a fare andremo a fare un po' come fanno queste due persone guardate questo video tanto per sorridere un po' ecco non arriveremo a tanto non lo so questo è quello che succede un po' esagerato devo dire la verità un po' esagerato ma questo è quando si diceva a tavola all'aperto per mangiare la mascherina si può tenere giù invece questi sono come i tibetani insomma sono proprio l'ige al dovere guardate proprio non riescono ecco fino in fondo per capire un po' a che punto arriveremo perché non sarà facile poi a un certo punto anche se non c'è più l'obbligo all'aperto ecco non sarà facile liberarsi delle mascherine perché a livello psicologico ovviamente per una cosa che abbiamo fatto per più di un anno e mezzo con la paura che ci è stata inculcata non sarà facile liberarsi di queste mascherine però intanto titolo ancora del Corriere Adriatico finalmente liberi adesso portateci eventi e turismo l'addio al coprifuoco innesca l'entusiasmo tra ristoratori e gestori opinioni concordi sono stati mesi durissimi speriamo archiviati il prossimo step via le mascherine con questo caldo si è al limite si torna a godersi la cena e la serata in compagnia senza l'ansia di dover fuggire come cenerentola ma sul resto del Carlino troppe licenze e i chioschi in Viale Trieste creano folle rumori e i turisti si arrabbiano l'accusa di un albergatore storico Paolo Campagnoli che dice si doveva fare come a Riccione spostare le strutture lontano dagli hotel fuori le auto dal centro della città di Fano la ZTL si trasforma in area pedonale misura attiva fino al 30 settembre dalle 19 alle 24 in attesa dell'acciclabile di collegamento con il mare poi Museo della Flaminia Missione Futuro toccherà al Grottini Lab sviluppare il restyling ideato dalla Politecnica siamo ancora sulla pagina di Fano del Corriere per raccontarvi di questo collegamento la serata di ieri di Passaggi Festival in piazza 20 settembre Shannon Stone le distanze non contano la star si mette a nudo sono rinata passaggio applausi anche per l'immunologa Viola che racconta tra l'altro un aneddoto ho vissuto qui qui a Fano mio marito lavorava infatti alla Saipem dunque ieri è stata la giornata di Shannon Stone Shannon Stone che come sapete è stata colpita da un ictus nel 2001 ha scritto un libro Il bello di vivere due volte pubblicato da Rizzoli dove lei racconta appunto questi momenti difficili drammatici mentre la Viola l'immunologa invece come racconta e scrive Massimo Foghetti questa mattina dice in pochi erano a conoscenza che del suo forte legame con la città di Fano avendovi soggiornato tra il 2012 e il 2013 quando il marito per la regione di lavoro era stato trasferito dalla città di Fiume in Croazia alla Saipem di Fano gli stessi miei figli ha evidenziato la ricercatrice e sono andati a scuola al Padalino Il teatro più bello un altro articolo sul Corriere di Oggi coinvolti 1500 bambini di 68 classi socialità sempre al centro nella stagione scolastica più complicata di sempre ancora dal resto del calino Shannon Stone le lacrime di una diva l'attrice in collegamento per passaggi si commuove pensando alla malattia Alpincio folla per Asia Argento l'immunologa Viola si svela fanese ha suscitato ancora più simpatia tra il folto pubblico di Piazza 20 Settembre l'altra sera l'immunologa Antonella Viola diventata uno dei volti televisivi più popolari in questo periodo di Covid-19 quando ha detto di essere legata in modo particolare alla città di Fano Valmetauro Carignano non solo terme il castello racconta se stesso due iniziative a cura dell'associazione nata quest'anno il 3 luglio la narrazione poi sotto che fine ha fatto la caserma dei vigili del fuoco di Fano ecco qua il titolo nuova caserma tutto fermo manca il decreto già firmato il contratto i lavori dovevano iniziare lo scorso autunno ma a causa dei tempi lunghi della burocrazia ministeriale l'avvio dei lavori della nuova caserma dei vigili del fuoco è ancora lì fermo quindi sono ancora lì fermi Maxi Tavolata Carignano si apparecchia per cento cena medievale accompagnati da figuranti e show teatrale così il borgo rinasce saranno gli stessi Angiolello e Orianna i personaggi più noti del casato a intrattenere gli ospiti e poi sul DDL Zanna sul disegno di legge Zanna tornano le sentinelle ma non chiamateci omofobi c'è stata una manifestazione l'altro giorno l'altra sera all'anfiteatro Raster di Fano contro il disegno di legge tantissime le divise probabilmente più le divise che i partecipanti Bordoni siamo diventati il partito delle imprese parliamo della CNA il segretario rieletto per acclamazione Matteucci invece nuovo presidente e Barilari diventa presidente onorario noi equidistanti e questo ci dà autorevolezza si è parlato tanto di webinar e web ma ci sono aree dove i cellulari hanno una sola tacca vedete le cose che dico io da sempre qui in televisione lo dice anche la CNA e quindi speriamo che riescano anche loro a risolvere questa questione dei segnali telefonici che non sono un granché ma i problemi sono altri direbbe qualcuno leggendo il titolo di questa notizia uniti per aiutare la famiglia di Samu i poliziotti lanciano una raccolta fondi per aiutare la famiglia è un'iniziativa di solidarietà per la famiglia di Samuele Santi per tutti conosciuto come Samu il sovrintendente della polizia stradale che avrebbe compiuto 45 anni ad agosto e che ha perso la vita nella mattinata di domenica in un incidente sulla strada pecchiese il sindacato di polizia sta infatti promuovendo tra i colleghi di tutta Italia una raccolta di fondi rivolta alle persone più care della vittima per aiutarle ad affrontare una situazione drammatica e il SIULP mette a disposizione questo codice IBAN che adesso io allargo a tutto schermo così ecco vi do la possibilità e il tempo eventualmente come sempre facciamo in questi casi di fare una fotografia al televisore e poi con calma eventualmente fare questo questo bonifico per chi volesse aiutare la famiglia Venanzi siamo sulla pagina di Vallefoglia ancora del Corriere Venanzi ha aperto il museo gioiello ricchezza unica nel suo genere il taglio del nastro la presenza delle autorità Ucchielli il sindaco dice il nostro grazie va alla regione di gestore urge un dibattito ci aiuti Aguzzi Borlenghi del centrodestra il sindaco è assente ora decidano i cittadini a Pecchiese dicevamo appunto questa strada come tutte le strade dell'entroterra che spesso i motociclisti prendono con troppa leggerezza con molta velocità poi basta una distrazione un attimo un pensiero ricorrente che distrae dalla strada e annulla i riflessi e quindi poi succede quello che succede una via crucis chiamata strada tante croci ai bordi della carreggiata per ricordare l'alto numero di vittime che hanno mietuto quelle curve l'ultima due giorni fa come se la colpa fosse delle curve non è colpa delle curve chiaramente ma lo ribadisco a costo di essere impopolare ma sulle strade ci siamo tutti e vediamo come spesso poi queste stagioni un po' così questo ritorno all'estate la primavera dia una spinta in più nell'acceleratore di queste di questi di questi motociclisti che vanno e sfrecciano come dei matti ecco quindi bisogna stare attenti e soprattutto evitare di fare queste uscite anche l'altro giorno l'ultimo fin di settimana due incidenti gravi intanto da Sant'Angelo in Vado è morta la prof Brandinelli Pigrucci ex insegnante di scienza al liceo classico di Urbino aveva 93 anni tra i tanti suoi allievi anche il virologo Roberto Burioni l'esequie e la tumulazione nel locale cimitero si sono svolte ieri a Sant'Angelo in Vado restiamo su Urbino in quella zona la città è ripartita sotto le stelle titolo del Corriere musica e arte e la ricetta Ducale successo per Urbino plays jazz in piazza la Galleria Nazionale si prepara per le notti di luglio e agosto mentre la pizza dell'alleanza tra cuochi e produttori l'altra notizia che troverete di taglio basso sulla pagina di Urbino mentre Aspes supera la crisi siamo a Pesaro supera la crisi la crisi pandemica con un budget inattivo ma il Covid ha messo a dura prova i servizi cimiteriali il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio della partecipata illustrato dal Presidente Pieri senza impianto di cremazione quello di Fano avremmo visto anche qua le immagini delle bare di Bergamo lo sport Fano un altro anno così non lo posso più sostenere sono parole di Enrico Fattò Fidani che è il Presidente dell'Alma Juventus Fano la squadra di calcio che purtroppo quest'anno è retrocessa dalla serie dalla insomma dalla semiprofessionista alla serie D si spera in un ripescaggio però i problemi adesso sono altri il problema è che il Presidente dice dopo i contatti con il Sindaco Serie dice da solo non ce la faccio servono nuovi soci dunque si sta confermando una missione tutt'altro che semplice quella intrapresa dal Sindaco di Fano Massimo Seri che notoriamente non fa come dire il Procuratore Sportivo o il Presidente ad onore di una società di calcio ha tanti altri problemi però comunque se può dare una mano immagino che Massimo Serie lo faccia e lo faccia volentieri ma comunque in questo momento viene tirato per la giacchetta e quindi dovrebbe cercare di risolvere il problema della compagine societaria dell'Alma Eventus Fano perché? perché il costruttore dei Marchi che era il nome l'imprenditore che avrebbe dovuto dare una mano a Enrico Fattofidani dice anzi preferirebbe far parte di un'accordata con un progetto diverso cioè dice io non posso fare io posso entrare ma con me ci dovrebbero essere altri imprenditori perché quando si tratta di tenere di sostenere le spese di una squadra di calcio oggi come oggi insomma non è una cosa che si fa con leggerezza e quindi meglio essere un'accordata cioè più persone che buttano fuori i soldi intanto a Fossombrone invece purtroppo è sfumato il sogno di andare in D e quindi rimane in eccellenza è stato un brutto colpo il DS Meschini il direttore sportivo dice adesso metabolizziamo il K.O. ma il progetto continua e dunque sarà per il prossimo anno prima di salutarci però consentitemi mancano ancora pochi minuti perché ci seguo in diretta la messa di Loreto vi faccio vedere una fotografia la faccio vedere eccola qua questo signore si chiama Ivan i fanesi qui mi rivolgo i fanesi i concittadini che come me sono nati e hanno vissuto a Fano da sempre conoscono Ivan questo è il nome di questa persona Ivan ci ha lasciati ci ha lasciati in queste ore non ne parlano i giornali non ne parla nessuno però è un po' come dire è un pezzo di città che ci lascia un altro pezzo di città cosa ha fatto? non è stato un professore un medico Ivan era una persona semplicissima senza maschere e quindi per questo tutti lo conoscono e tutti lo ricorderanno anche guardando questa fotografia quindi ci sembrava carino salutarlo e dare la possibilità poi a tutti i fanesi ecco di sapere che Ivan non è più tra noi ma perlomeno ci continuerà a seguire dall'alto quindi un saluto a lui era giusto ricordarlo noi ci salutiamo qua l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 20.30 e poi invece alle 21 avremo uno speciale dedicato all'assemblea legislativa della CNA di cui vi abbiamo parlato in queste ore in questi giorni grazie e buona giornata a tutti e buona giornata